5 di recupero quasi terminati l'Inter vince la sua nona Coppa Italia, devo inchinarmi, mi tolgo il cappello anche se non ce l'ho di fronte a Simone Inzaghi, complimenti ragazzi, un allenatore che queste partite non le sbaglia mai e lo aveva dimostrato anche alla Lazio da quando è arrivato all'Inter ragazzi, si sta proclamando sempre di più, questa è la sua terza Coppa Italia da allenatore e tra l'altro ha vinto anche 4 Supercoppe italiane ragazzi e che dire, le finali di Coppa Italia non le sbaglia mai e ora c'è anche quella di Champions League, l'Inter ha fatto un capolavoro nelle Coppe, tra l'altro andranno in Champions League tramite campionato, quindi stagione meravigliosa a mio modo di vedere quella fatta da parte dei Nerazzurri e pensare che fino a due mesi fa c'era ancora qualcuno che si osava di criticare Inzaghi, roba da matti ragazzi, poi è chiaro si deve dare il tempo all'allenatore per poter esprimere il massimo, Inzaghi sta facendo la storia perché ragazzi vince la Coppa Italia, quindi gioca la Supercoppa italiana, c'è la finale di Champions League, il campionato andrà in Champions League, quindi ragazzi stagione autorevole e tra l'altro ha vinto anche la Supercoppa italiana di mezzo, fatto sta che oggi l'Inter batte la Fiorentina per 1-2, doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo che si rende decisivo e autorevole di questo capolavoro nero-azzurro nel primo tempo mi dispiace per i tifosi viola che sono uno spettacolo, scenografie meravigliose per parte, mamma mia, lo stadio olimpico di Roma, curva nord e curva sud dipinte di viola e nero-azzurro rispettivamente e quindi sono venute fuori delle coreografie, mozza fiato, quindi pubblico incredibile, nonostante per i primi minuti la curva nord dell'Inter non abbia cantato per motivi ragazzi che sapete tutti quanti, la Fiorentina la sblocca dopo 3 minuti, segna Nico Gonzalez e sebbene la Fiorentina si era impostata il piano tattico dalla propria parte poteva essere anche un male così lo è stato perché segnando subito è chiaro che poi ci sono ancora praticamente 90 minuti ti senti comunque in vantaggio quindi con una sicurezza più importante ma stai affrontando una squadra come l'Inter che le finali non le sbaglia completamente mai e quindi poi i nero-azzurri sono riusciti nel primo tempo a ribaltare il risultato c'era un'atmosfera incredibile nella curva sud e nella Fiesol dei ragazzi che è una meraviglia a mio modo di vedere una delle migliori curve che ci sono in Italia fatto sta che Nico Gonzalez se la sblocca con una palla incredibile di Coneri ragazzi un'azione meravigliosa sul secondo palo sbuca il movimento dell'argentino che riesce a mettere in porta e battere Andanovic il dominio della Fiorentina è sostanziale 25 minuti sul peso ragazzi veramente alla grande possesso palla incredibile la girano con facilità gestendo la partita per la prima parte di tempo un calcio meraviglioso come sapete perché la Fiorentina fa impazzire l'occhio umano purtroppo mi dispiace poiché la partita sia andata a perdere perché sarebbe stato bello vedere una piazza che non vince da 22 anni se non vado errato un trofeo sarebbe stato fantastico ragazzi vedere la reazione di tutti quanti i tifosi viola purtroppo la viola non è riuscita nell'impresa ecco no perché poi l'Inter nonostante la viola stesse giocando benissimo a calcio e stesse anche controllando la partita riesce a ribaltarla perché poi basta solamente un episodio per rimetterla in piedi taglio di Brozovic perfetto l'unico sbarione difensivo della difesa della Fiorentina è il gol di Lautaro Martinez che dopo pochi minuti fa anche l'Euro goal con una palla meravigliosa messa dentro e la semi rovesciata incredibile del Toro dell'Argentino purtroppo la Fiorentina prende troppi gol da ripartenze ed è l'ennesima volta che accade dopo i tanti gol subiti in campionato nati da queste circostanze non impareranno mai purtroppo questo c'è da dirlo è chiaro che ragazzi dopo le tante occasioni che hanno creato ragazzi fa male fa male fa male vedere la Fiorentina essere sconfitta sul campo ragazzi anche perché hanno giocato a mio modo di vedere un'ottima partita anche perché nel secondo tempo con la situazione di svantaggio hanno completamente dominato il campo hanno sottomesso l'Inter schiacciata del tutto in fase difensiva che comunque ha avuto qualche chance per chiuderla Dzeko che si divora un gol grosso quanto una casa nel primo tempo da solo davanti al portiere mandalta mi sembrava di vedere Dzeko ai tempi della Roma poi però ragazzi i miracoli di Andanovic incredibili uno di Terracciano su Lukaku perfetto poi Nico Gonzalez per Andanovic inizia il totò di tiri Biraghi calcio alto e l'avevo vista dentro poi il miracolo di Andanovic su Buonaventura poi Jovic che si mangia l'impossibile colpo di testa praticamente a porta vuota riesce a girarla addirittura troppo troppo a fil di palo e la palla esce ragazzi Inter straschiacciata ma la Fiorentina ecco è finita ora la partita mi dispiace veramente tanto poi sono contento ovviamente per i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri però avrei voluto vedere sinceramente vincere una piazza come quella viola ma che ha ancora chance per la Conference League stagione meravigliosa a mio modo di vedere quella della Fiorentina che ha gestito al meglio le coppe in campionato ha fatto quel che poteva insomma l'Inter ragazzi ha gestito le ripartenze poi ci sono state tante azioni per parte diciamo che è stata ultimi 10-15 minuti una partita bellissima a ritmi alti ragazzi entrambe le squadre si sono aperte mi è piaciuto l'approccio con cui è entrata la Fiorentina in campo in questa partita subito a impadronirsi del campo ma soprattutto il bel calcio ragazzi che sempre mettono in atto e ci provano infatti hanno segnato subito poi purtroppo l'Inter con la grande squadra che tengono a disposizione con i tanti cambi che può effettuare in zaghi con la lunghezza di Rosa ragazzi e l'Inter è troppo superiore le finale non le sbaglia mai le partite secche più che altro e non a caso solo in finale di Champions League è stagione autorevole che dire ragazzi mi dispiace per la Fiorentina ma l'Inter queste partite non le sbaglia mai tantissime occasioni per la Viola come detto ma non sono riusciti ad andare a segno tanti miracoli di Andanovic e che dire anche in precisione Viola che quindi poi portano tutto alla sconfitta mi dispiace noi ci vediamo alla prossima ciao